Buongiorno, siamo con il professor Claudio Letizia, professore buongiorno. Parliamo oggi di ipertensione perché il professore è direttore dell'unità di ipertensione secondaria al Policlinico Umberto I di Roma e ci piace un po' fare il punto su quelle che sono tante leggende metropolitane sull'ipertensione che tra l'altro è una patologia che colpisce moltissime persone e su cui però a volte ci sono delle informazioni non tanto corrette. Allora andiamo a vedere un po' cosa è vero e cosa è falso sull'ipertensione, mi sono segnata un po' di cose. Ecco una cosa importante tra l'altro stiamo andando verso l'estate, sicuramente in estate la pressione tende a scendere ma molte persone decidono autonomamente di sospendere i farmaci, di ridurli e poi magari si dimenticano anche in autunno di riprenderli. Questo è un comportamento non corretto perché l'aumento della pressione arteriosa è un'alterazione costante, ci possono essere delle modificazioni del ritmo circardiano della pressione arteriosa sia fisiologicamente ma anche quando uno è iperteso, sospendere i farmaci soprattutto nel periodo estivo significa che ci possono essere gli effetti rebound per cui si possono avere delle emergenze ipertensive o delle urgenze ipertensive, per cui il consiglio che si può dare a un soggetto affetto da ipertensione arteriosa il quale fa utilizzo di farmaci anti-ipertensivi intanto durante l'estate proprio perché uno tenta a disidratarsi per il calore riempire la quantità di liquidi, nel senso per cui saper bere durante l'estate e poi continuare a fare la terapia monitorando bene la pressione arteriosa. E sempre deciderlo insieme al proprio medico curante, qualunque aggiustamento terapeuta. Assolutamente no, non bisogna mai sospendere la terapia di proprio moto ma bisogna sempre consigliarsi col medico curante. Certo, l'ipertensione è una malattia tipicamente maschile si dice spesso, le donne sono protette e in qualche maniera non devono preoccuparsene. Allora, l'ipertensione arteriosa determinato soprattutto dai trials che sono stati fatti che per tanto tempo hanno tenuto da parte le donne è tanto vero che la medicina di genere è stata proprio rimessa in atto a seguito di una collega americana che è stata la prima e unica donna presidente dell'NH, cardiologa per di più, la quale mise allo scoperto questo fatto cioè che tutti i studi scientifici venivano fatti negli uomini e non con le donne creando un fatto discriminatorio per cui tante di quelle cose che noi sappiamo erano proprio perché erano più fatti sugli uomini rispetto alle donne. Sia gli uomini che le donne possono essere affetti da ipertensione arteriosa, sicuramente la donna nel periodo fertile è protetta dagli estrogeni quali sono dei vasodilatatori per cui tendono a ridurre i valori pressori, ma dopo la menopausa la donna è ipertesa quanto l'uomo anzi recupera tutto quello che durante il periodo fertile l'ombrello estroprogestinico proteggeva. Si dice che se uno ha dei capogiri la mattina, soprattutto le persone anziane che può capitare, è dovuto a una pressione bassa. Questo è un altro fatto che non è vero perché i valori più alti della pressione arteriosa noi abbiamo nelle prime ore del mattino è tanto vero che c'è un ritmo circardiano della pressione arteriosa in cui i valori più alti si hanno intorno alle 6, 7, 8 del mattino poi la pressione più bassa l'abbiamo durante la notte quello che si chiama il fenomeno del dipper, cioè nel senso la caduta notturna della pressione arteriosa. Nell'anziano può succedere una cosa che avendo un problema di disautonomia cioè il sistema nervoso periferico non funziona bene è proprio dettato anche a altre comorbidità tipo il diabete, tipo patologie disautonomiche eccetera nell'alzarsi dal letto alla mattina può avere una caduta della pressione arteriosa quella che si chiama ipotensione ortostatica che non va confuso con il ritmo circardiano della pressione arteriosa. Un'altra considerazione che si fa spesso è che la pressione quando si misura dal medico è sempre più alta e che quindi è un po' difficile poi decidere una terapia in base a quell'unica visita, a quell'unico controllo. Allora questo è vero, è verissimo perché si chiama l'effetto camice bianco cioè nel senso che il soggetto quando va dal medico proprio per il fatto di stare dinanzi al medico avere un rapporto così importante con il medico attiva tutto un sistema adrenergico per cui i valori pressori sono più alti rispetto a quelli domiciliari. Noi negli ultimi anni si sta molto sponsorizzando il fatto della misura a domicilio la cosiddetta automisurazione oggigiorno abbiamo degli apparecchi estremamente molto efficienti per misurare la pressione a domicilio anche nei soggetti che sono ipovedenti per cui hanno dei display molto grossi, con numeri molto grossi eccetera proprio per avere questo fatto dicotomico tra la pressione cosiddetta alta dal medico e quella poi a domicilio. Abbiamo inventato poi un apparecchio che è l'apparecchio che misura la pressione nelle 24 ore quello che si ha in monitoraggio ambulatorio delle 24 ore e questo viene spesso utilizzato proprio quando c'è questa incongruenza tra la pressione misurata dal medico e quella misurata a domicilio. Passiamo all'alimentazione sicuramente sappiamo che una dieta ricca di sale favorisce l'innalzamento della pressione però ci sono anche tanti alimenti un po' sul banco degli imputati il caffè, agli alcolici, la liquirizia ad esempio di cui si parla tanto facciamo un po' di chiarezza. Allora qui bisogna fare veramente una grossa distinzione su queste sostanze che alcune sono sostanze che fanno parte della nostra alimentazione altre sostanze che sono voluttuarie. Allora per quanto riguarda quelle che fanno parte della nostra alimentazione il sale ha rappresentato per l'uomo sempre un momento importante è davvero che si parla della saga del sale il sale è stato un mezzo di scambio economico basta pensare alle vie del sale eccetera eccetera però la quantità del sale dell'uomo che deve avere di solito è intorno ai 5 grammi al giorno per cui quando noi dobbiamo trattare un paziente iperteso la prima cosa è lo stile di vita cioè le sue abitudini alimentari per cui se sappiamo che questo soggetto fa incetta di enorme quantità di sale sia aggiungendolo ma anche utilizzando dei cibi che sono salati quelli che sono in salamoia per esempio eccetera vanno evitati per cui il massimo consentito sono 5 grammi al giorno di sale che rappresenta un cucchiaino di sale da cucina e casomai utilizzare anche più porzioni di potassio perché si è visto che il potassio ha più un'azione basso dilatante rispetto all'azione di volume che fa il lessodio la domanda sulla liquirizia su questo dobbiamo veramente spendere qualche parola perché la liquirizia è un po' incriminata nell'ambito dell'ipertensione arteriosa allora chi può avere un'ipertensione da liquirizia l'ipertensione da liquirizia la possono avere quei soggetti in cui c'è un deficit enzimatico di un enzima importantissimo che è la 11-beta-idrossisteroido-idrogenasi T tipo 2 questo enzima si trova a livello renale questo enzima trasforma il cortisolo biologicamente attivo in cortisone biologicamente inattivo fisiologicamente quando c'è un deficit di questo enzima che cosa succede? che il cortisolo non è trasformato in cortisone per cui questi soggetti hanno più cortisolo in circolo e il cortisolo in circolo oltre ad avere un'azione glicoattiva quanto ne è tanto anche un'azione mineralattiva si comporta come l'aldosterone per cui questi pazienti li assorbono acqua dal rene perdono il potassio e hanno l'ipertensione arteriosa l'acido glicerizzinico che si trova nella liquirizia può alterare questo enzima per cui alterando questo enzima si può avere questo tipo di ipertensione intanto la quantità di liquirizia deve essere veramente tanta deve essere liquirizia pura ma in soggetti particolari che hanno queste caratteristiche per cui la liquirizia è un buon alimento anzi veniva utilizzato per curare l'ulcera dello stomaco proprio perché l'acido glicerizzinico aveva un'azione antisecretiva gastrica per cui quando non avevamo a disposizione gli inibitori di pompa, gli antiacidi eccetera veniva utilizzata la liquirizia quindi assolviamola assolviamo e caffè e alcolici? caffè, anche sul caffè bisogna dire alcune cose allora prendere tanto caffè sicuramente fa male cioè noi possiamo dire che tre tazzine di caffè al giorno sono permesse anche perché il caffè può stimolare una sostanza importante del nostro circo che si chiama adiponecchettina la adiponecchettina è un ormone che viene prodotta dalle cellule chiare dell'organo adiposo e è quello che facilita l'azione biologica dell'insulina per cui avere tanta tiponecchettina in circolo significa avere una protezione cardiometabolica rispetto a chi invece ne ha poca per cui diciamo questo che dal punto di vista del caffè vanno utilizzate poche tazzine sfruttando anche questa azione nell'ampito della produzione della tiponecchettina l'alcol anche qui sull'alcol ci è stato scritto tanto eccetera poi noi siamo in un paese dove abbiamo uno dei migliori vini dei migliori spumanti i migliori prosecchi eccetera per cui non possiamo criminizzare un'industria importante del nostro paese sia interna ma anche esterna l'alcol va soprattutto in termini di vino va utilizzato nel giusto modo per cui utilizzare il vino rosso che contiene soprattutto i polifenoli possono proteggere anche le arterie tanto è vero che si diceva il paradosso francese i francesi che bevono vino rosso avevano minato lo sclero e si rispetta agli altri però anche qui la quantità è fondamentale cioè uno, due bicchieri ai pasti e non superare questo l'ipertensione è una problematica familiare quindi comunque se si hanno dei genitori con un'ipertensione bisogna avere qualche accortezza in più e forse iniziare un monitoraggio un po' prima rispetto a un ragazzo magari invece che non abbia problematiche familiari certo, questo è un altro problema importante anche perché oggigiorno nell'ambito dell'ipertensione cosiddetta primitiva o essenziale non abbiamo delle certezze il perché però sappiamo che soprattutto quando noi raccogliamo la storia clinica di un paziente e andiamo a vedere la familiarità noi vediamo che spesso questi hanno l'ipertensione i noni, i zii, i genitori eccetera per cui sappiamo che l'aspetto genetico ma soprattutto poi si deve accoppiare l'aspetto ambientale cioè tipo lo stile di vita, tipo il fatto di essere poco attivi con l'esercizio fisico di ingrassarsi, di utilizzare tanto sale queste due cose facilitano la possibilità di avere poi uno stato ipertensivo abbiamo parlato di giovani molto spesso si dice l'ipertensione è una problematica che riguarda solo una fascia di età quindi i giovani non devono preoccuparsene non è vero anche questo, sappiamo benissimo che anche nell'età giovanile si può essere ipertesi anche se la gran parte di ipertesi li vediamo intorno ai 40-50 anni però sappiamo benissimo che l'ipertensione arteriosa può essere anche sia in età pediatrica che nell'età adolescenziale che da giovane e questi sono quei soggetti che tutto sommato dobbiamo particolarmente studiare per le forme secondarie perché possono avere alcune volte delle patologie tipo per esempio la coartazione istimica della orta che è una patologia tipicamente dell'età pediatrica giovanile oppure patologie tipo la displasia fibromuscolare delle arterie renale che è tipicamente delle giovani donne e via dicendo ma poi possiamo trovare anche in questa fetta di soggetti ipertesi cosiddetti primitivi in cui soprattutto l'aumento del peso corporeo può contribuire all'aumentare la pressione arteriosa oggigiorno abbiamo nell'età pediatrica il 20% dei soggetti dei bambini che sono in sovrappeso e obeso e l'obesità sappiamo benissimo si correla con l'aumento della pressione arteriosa per cui già avere uno stato di alterazione dal punto di vista del peso corporeo in età giovanile significa poi essere nel tempo anche un potenziale iperteso un'altra frase che si dice spesso è che lo stress aumenta la pressione in una vita un po' frenetica che abbiamo tutti dovremmo essere tutti un po' ipertesi è un fenomeno momentaneo nel senso che se uno ha una giornata particolarmente stressante ha sicuramente un rinalzo di pressione o è qualcosa che continuativamente nel tempo poi può favorirla? se mi permetta qui vorrei fare una delucidazione semantica quando il professor Seli premio nobel e poi tra altre cose scoprì il concetto di stress lui scoprì una cosa importante dimostrò che il sistema cosiddetto dell'assipotalamipofisi surrene per cui la produzione di CRF, ACTH e cortisolo proteggeva dai cosiddetti stressor stressor sono quei fattori esterni o interni del nostro organismo che possono modificare l'aspetto non solamente cardiovascolare ma la cenestesi di tutto quanto l'organismo per cui quando noi parliamo di stress non intendiamo una cosa negativa lo stress è una risposta del nostro organismo a dei fattori esterni quanti fattori esterni superano quello che è la nostra protezione cioè per cui questo meccanismo di salvaguardia tra cui anche le endorfine endogene partecipano in questa cosa qui allora noi possiamo passare da una cosa che viene a proteggerci a una cosa invece che ci può far del male e questo che cosa significa? significa che se noi ci poniamo continuamente a delle alterazioni esterne che possono essere un supermenaggio fisico che può essere un aspetto da punto di vista intellettuale oppure altre cose potremmo avere poi delle alterazioni cardiovascolari tra cui anche le modificazioni dell'apparato cardiocircolatorio in termini anche di ipertensione arteriosa che voglio dire questo? che quando utilizziamo le parole dobbiamo poi dargli il giusto significato dice sono stressato non significa assolutamente niente perché allora andremo a discutere quello che Seley aveva scoperto che è una cosa protettiva l'animale che va in fuga perché viene predato attiva il sistema ipotalamico, ipofisi, surrene e in quel momento lo stress è positivo scappa l'animale però se questo problema si riperpetua nel tempo però poi da una cosa positiva diventa una cosa negativa abbiamo parlato prima di alcuni alimenti che possono essere imputati per così dire vediamo invece quale può essere un'alimentazione protettiva si dice per esempio che la dieta vegetariana possa essere d'aiuto nell'abbassare la pressione ma io più della dieta vegetariana parlerei della dieta mediterranea vera quando Case americano lui era un fisiologo endocrinologo del Minnesota seguì le truppe americane nella seconda guerra mondiale nel Cilento scoprì che la gente viveva di più rispetto alle altre popolazioni soprattutto a quella americana si accorse che questi mangiavano in una maniera molto semplice e la dieta mediterranea è una dieta semplice fatta di poca pasta fatta di pesce diciamo povero fatta di legumi ma soprattutto fatta di verdure fatta di frutta e condimento di olio questa è la dieta mediterranea è una dieta parca è una dieta povera noi dobbiamo fare quel tipo di dieta dove la parte soprattutto dei vegetali va bene soprattutto per quanto riguarda frutta e frittura è estremamente presente e noi sappiamo che questo tipo di dieta protegge l'apparato cardiocircolatorio è tanto vero che chi fa questo tipo di dieta ha meno aterosclerosi e avendo meno aterosclerosi c'è meno rimodellamento dell'apparato cardiovascolare tra cui anche il problema della pressione arteriosa stavo accennando prima che durante la notte abbiamo il picco di pressione bassa però le persone che russano invece possono essere a rischio russano o appunto possono avere della prenoturna le osas possono avere invece il rischio di pressione alta certo questo è un problema importante perché il russare è una roncopatia va bene che di solito ha delle cause soprattutto delle prime vie respiratorie tra cui per esempio un'ipertrofia di turbinati una deviazione del setto nasale un problema a livello dell'ugula eccetera per cui questo è un problema e il russare è un rumore brutto che dà fastidio dà fastidio alle persone che dormono vicino eccetera la penea ostruttiva notturna invece è un quadro clinico estremamente importante perché in questi pazienti oltre a russare e non è detto che tutti che hanno la penea russano hanno anche delle pause respiratorie durante la notte queste pause respiratorie durante la notte portano a una desaturazione di tutte quante le cellule dei tessuti, degli organi e tra cui quelli dell'apparato cardiocircolatorio sono quelli che vengono più coinvolte è una patologia non rara questa coinvolge intorno al 4% di tutta la popolazione però se ci spostiamo nella popolazione anziana e soprattutto negli obesi arriviamo anche al 10% non c'è una differenza di genere per cui sia i maschi che le femmine sono particolarmente coinvolti ma possono essere coinvolti anche i bambini per esempio un sintomo che i bambini hanno della penea ostruttiva notturna è fare la pipì a letto che viene sottovalutato questo e invece spesso questo è un richiamo di questo problema della penea ostruttiva durante il na allora le cause che possono determinare questo sono diverse possono essere malformazioni delle prime vie respiratorie per cui malformazioni del naso alterazioni del palato alterazioni della mandibola e via dicendo che possono essere corrette dal punto di vista torino laringoiatrico ma noi sappiamo che la stragrande maggioranza di questi pazienti sono degli obesi e per cui hanno un aumento di grasso a livello del collo e questo grasso durante la notte fa collabire le prime vie respiratorie e per cui hanno queste pause che possono determinare la desaturazione l'esame maestro e il ghost hunter per fare la diagnosi è l'esame polisonnografico il quale ci permetterà di fare un indice che si chiama indice ipopenea apnea e se questo indice è superiore a 5 parliamo già di apnea ostruttiva notturna più è maggiore questo indice più c'è gravità sicuramente un luogo comune o forse no adesso ce lo dirà lei è che le persone ipertesi non possono andare in vacanza in montagna comunque ad altitudine troppo alta allora questa cosa qui va anche sfatato cioè nel senso che l'iperteso se ben controllata la sua pressione arteriosa va in montagna io consiglio sempre ai nostri pazienti ipertesi di non passare che posso dire da Roma andare poi sulle dolemiti direttamente dobbiamo fare quello che si chiama meccanismo della acclimatazione cioè nel senso che starò qualche giorno a 500 metri poi starò qualche giorno a 700 metri per arrivare poi alla diciamo alla meta che si è stata prefissa e questo concetto significa anche stabilizzare meglio i valori pressori una cosa importante come abbiamo detto sulla parte dell'estate che si suda molto di più eccetera è non disidratarsi perché spissandosi il sangue con la disidratazione non possiamo avere incrementi della pressione arteriosa certamente in quel periodo in cui si sta in montagna il controllo l'automisurazione della pressione deve essere un po' più assiduo e se poi ci sono dei sintomi tipo la cefalea ronzì fisti alle orecchie eccetera è un campanello d'allarme per misurarsi la pressione arteriosa ma immediatamente poi scendere a quote più basse i valori della pressione devono essere uguali a tutta l'età nel senso che se un valore giusto è 120-80 deve essere sia a 20 anni che a 80 è vero o falso? è vero è vero perché la teoria di 100 più gli anni ci ha portato per tanti anni a non considerare che una persona di 80 anni se facevamo 100 più 80 era 180 andava bene e abbiamo avuto tanta gente che ha avuto l'icchia cerebrale l'ischemia cerebrale l'infarto eccetera oggigiorno ora con le nuove classificazioni che abbiamo della misura della pressione arteriosa abbiamo una pressione ottimale che è 120-80 poi una pressione normale poi una pressione cosiddetta normale alta e poi l'ipertensione arteriosa per cui noi dobbiamo mirare sempre ad avere una pressione ottimale che è 120-80 e non facendola aumentare perché se aumenta la pressione arteriosa rientriamo nello stato di ipertensione per cui la pressione deve essere più bassa possibile e questo sia nel soggetto normale ma anche quando poi c'è la patologia per cui l'ipertensione più o meno associata a malattie per esempio nel diabetico che è iperteso i valori della pressione arteriosa devono stare al di sotto di 130-80 nel paziente con insufficienza renale devono stare al di sotto di 130-80 chi non ha queste patologie iperteso già al di sotto di 140-90 va bene però come vedete a seconda delle patologie noi dobbiamo delle comorbidità come sappiamo va personalizzata poi il go standard della riduzione della pressione arteriosa mi ha parlato di stili di vita sicuramente l'obesità abbiamo detto è un fattore di rischio e il fumo l'obesità è un grosso fattore di rischio è tanto vero che oggigiorno non parliamo più di obesità parliamo di adiposopatia perché perché i tessuti adiposi che una volta venivano chiamati così tali vengono a costituire un organo un organo che si chiama l'organo adiposo di questo organo oggi giorno sappiamo tutto esistono cellule chiare cellule brune cellule beige e ogni cellula produce degli ormoni basta pensare che le cellule chiare producono 80 ormoni all'incirca le cellule brune sono quelle che servono alla termogenesi hanno una sostanza che si chiama l'ECP1 che è tipica è quella che fa bruciare è quella che dà calore si possono trasformare da cellule chiare a cellule brune da cellule brune a cellule chiare per cui non è solamente un deposito l'organo adiposo di trigliceridi ma è un organo a tutti gli effetti e quando si ammala si chiama adiposopatia come il fegato organo epatos fegato quando si ammala epatopatia cuore quando si ammala cardiopatia essendo un organo si chiama adiposopatia per cui è una malattia vera e propria dobbiamo uscire dal concetto di obesità dobbiamo chiamarla con il nome giusto adiposopatia questi soggetti che hanno l'adiposopatia per cui hanno un'ipertrofia delle cellule adipose che sono malate questi frequentemente hanno l'ipertensione arteriosa riducendo il peso corporeo si riduce la pressione arteriosa 10 kg di meno sono 10 mm di meno di pressione arteriosa e non c'è nessun farmaco che fa tanto è vero e il fumo sicuramente il fumo il fumo è un altro problema un altro problema importante anche perché oggigiorno mentre c'è stato per gli uomini una discesa spaventosa per l'uso del tabacco c'è un incremento per le donne io che viaggio col treno vedo la mattina giovane donne che vengono a scuola eccetera che appena scendono si mettono a fumare il fumo di sigaretta è un potente fattore di rischio cardiovascolare ci preoccupiamo sempre della patologia respiratoria del tumore ma questi soggetti si ammalano di patologia cardiovascolare tra cui l'ipertensione arteriosa la terosclerosi e via di scena per cui non bisogna fumare e laddove si fuma ci abbiamo anche dei messaggi positivi dopo 15 anni è come se uno non avesse mai fumato per cui possiamo interagire notevolmente su questo problema perché molte persone infatti dicono ma ormai tanto fumato non è così esatto assolutamente no ora abbiamo veramente dei dati incontrovertibili che già dopo 5 anni ma soprattutto quando si arriva a 15 anni di aver cessato di fumare è come se uno non avesse mai fumato quindi nessun alibi nel non voler smettere assolutamente no a proposito di stile di vita l'attività fisica può abbassare la pressione può aiutare nel controllo sicuramente anche in chi è ipertesa certo allora l'esercizio fisico viene a tutti i nostri pazienti ipertesi prescritto è un esercizio fisico di tipo aerobico esatto non anaerobico per cui non di forza non di potenza non mettersi a sollevare pesi assolutamente no anche se per caso dovessimo fare poi un esercizio di forza aerobico 60-70% aerobico e 20-30% di tipo anaerobico io suggerisco sempre ai nostri pazienti di camminare almeno 30 minuti al giorno a passo sverto come diceva l'imperatore Tiberio Tiberio è stato uno dei imperatori più longevi nel periodo romano proprio perché aveva istituito che dopo ogni pranzo dovevano fare 3 miglia a piedi e per cui questo ha favorito sicuramente la protezione dell'apparato cardiocircolatorio questo in prevenzione sia primaria ma anche secondaria cioè nel senso che quando uno è anche aumentato di peso deve camminare deve fare muoto deve fare piscina deve fare ciclette deve fare bicicletta perché avendo un cioè l'esercizio fisico migliora tutto migliora tutti gli standard emodinamici del nostro organismo per cui deve essere favorito dall'età pediatrica ma anche poi nell'anziano le terapie antipertensive vanno proseguite per sempre una volta che si comincia si deve pensare che è un un tipo di trattamento che andrà proseguito per tutta la vita questo è sicuramente vero perché una volta che si inizia un tratamento farmacologico con degli antipertensivi deve essere fatto per tutta la vita la società italiana dell'ipertensione arteriosa di cui io sono sono un socio si è previsto un traguardo 70% dei nostri ipertesi devono essere ben trattati oggigiorno stiamo intorno al 40% e gli italiani diciamo che stanno veramente bene rispetto agli altri basta pensare che in Inghilterra stanno intorno al 18% negli Stati Uniti stanno al 22% per cui noi già diciamo un buon trattamento per cui il paziente iperteso ben trattato stiamo intorno al 40% la società italiana ha questo obiettivo che sicuramente lo raggiungeremo se noi continueremo a parlare dell'ipertensione come uno di maggior killer della mortalità cardiovascolare dobbiamo arrivare al 70% la pressione deve stare a di sotto di 140 a 90 mmHg alcune volte serve un farmaco alcune volte ce ne vogliono due ce ne vogliono tre ce ne vogliono quattro di classi diverse e oggigiorno si sta tentando disperatamente a far comprendere anche alle case farmaceutiche di trovare una pillola dove ci sono tre componenti diversi in altri paesi succede l'India per esempio esistono in una compressa tre molecole diverse antipertensive in Italia già ce ne abbiamo perché abbiamo per esempio calcio antagonistico a cinibitori calcio antagonistico con sartani calcio antagonistico diuretici beta bloccanti con diuretici calcio antagonisti con beta bloccanti cioè già c'è questa cosa qui questo per migliorare la compianza del paziente cioè perché se il paziente deve prendere quattro compresse invece ne prende una il problema si risolve per cui noi dobbiamo mirare a dire al nostro paziente lei è iperteso e si deve curare per tutta la vita perché l'ipertensione arteriosa è un killer silenzioso nel momento in cui c'è diciamo il danno d'organo stiamo già in un stato molto avanzato legato alla difficoltà di assunzione dei farmaci c'è anche proprio la mancata aderenza terapeutica soprattutto negli anziani questo è più che un vero un falso è proprio una realtà come si può in qualche maniera migliorare allora questo sicuramente questo sicuramente ma anche le comorbidità come vanno gestite questo è un grosso problema è un problema dal punto di vista di practice cioè di pratica clinica cioè nel senso come noi possiamo nei nostri pazienti anziani migliorare la complianza al trattamento farmacologico spesso ci troviamo a pazienti che sono ipertesi diabetici nefropatici cardiopatici e broncopneopatici eccetera eccetera per cui trovare poi la possibilità di far prendere tutti questi farmaci non è una cosa importante intanto io essendo un clinico medico mi sforzo sempre ad avere un rapporto nel parlare al paziente cioè quando uno dice prendo in carico il paziente significa con il mio paziente devo creare un osmosi devo creare un rapporto di feedback molto importante gli devo far capire qual è la sua patologia dedicargli il mio tempo perché se io gli parlo e glielo faccio capire sicuramente aderirà al trattamento è difficile quando uno prescrive un farmaco questo è e quello se lo deve prendere ormai oggigiorno non è più questo concetto per cui bisogna avere la bontà di spendere del tempo nel parlare ai nostri pazienti della loro patologia e perché prendere questi farmaci un'altra cosa estremamente importante è chi dà i farmaci a questi pazienti perché spesso sono pazienti che hanno l'alzheimer che hanno patologie importanti hanno avuto un icke test cerebrale hanno una demenza eccetera eccetera per cui qui gioco forza è l'ambiente dove vivono cioè nel senso i parenti eccetera i quali si devono veramente adoperare a dare il massimo per poter somministrare questi farmaci per cui è un aspetto non di secondo piano è un aspetto molto importante però se tutti noi ci mettiamo insieme possiamo risolvere anche questo problema torniamo un attimo alle donne che avevamo detto prima negli studi sono state anche un po' trascurate negli anni sicuramente in menopausa c'è una problematica che cambia e anche le terapie sostitutive nelle donne ipertese a volte possono creare un problema è vero o no? Allora su questo qui è un problema che in parte è vero in parte non è vero cioè noi sappiamo che la terapia sostitutiva dopo la menopausa deve essere mirata cioè non a tutte le persone bisogna dare la terapia sostitutiva ormonale perché la terapia ormonale sostitutiva può creare anche dei problemi basta pensare alla patologia oterina basta pensare alla patologia mammaria che può essere secondaria all'utilizzo di queste sostanze certamente se mi trovo dinanzi a una menopausa precoce oppure una menopausa con tanti effetti collaterali sicuramente questi farmaci ci possono aiutare a migliorare la qualità di vita di queste persone sicuramente dobbiamo essere molto più accorti nel momento in cui utilizziamo entrambi sia i farmaci antipertensivi che la terapia sostitutiva a monitorizzare meglio questi pazienti a controllare meglio la pressione arteriosa e a utilizzare dei farmaci quali sicuramente possono avere degli effetti non additivi ma anzi degli effetti diversi rispetto a quello che prendiamo noi sappiamo che gli estrogestinici hanno un'azione sul sistema renina angiodensina aldosterone per cui possono far trattenere più liquidi per cui alcune volte il diuretico potrebbe essere il farmaco più indicato non dimentichiamo un fatto che fino ad ora probabilmente non abbiamo detto la terapia dell'iperteso è individualizzata come tutte le terapie esiste la malattia ma esiste il malato con quella patologia e un farmaco che funziona ad uno non può funzionare all'altro l'esempio l'obeso il quale tende ad avere più volume plasmatico si beneficia di diuretici uno che è magro il quale probabilmente ha più un'azione adrenergica si beneficia di beta bloccanti cioè per cui noi dobbiamo utilizzare i farmaci a seconda del nostro paziente ipertensi ma questo per tutte le patologie esatto se questo vale un po' proprio per tutti proprio il controllo della pressione abbiamo detto soprattutto anche l'estate soprattutto gli anziani è fondamentale gli apparecchi elettronici a volte si dice che sono meno precisi però hanno comunque una loro valenza per il controllo quotidiano no 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 questa è anche una cosa che forse qualche anno fa era vera ma oggi giorno no allora intanto possiamo dire una cosa non vanno mai utilizzati gli apparecchi di polso per misurare la pressione arteriosa perché le società scientifiche non hanno codificato questi tipi di apparecchi primis sono soldi sprecati gli apparecchi che abbiamo a disposizione oggigiorno soprattutto quelli elettronici sono degli apparecchi ottimi dobbiamo prendere l'ottima di un'ottima fabbrica va bene e non quelli un prodotto affidabile non quelli a pochi soldi e sono degli apparecchi che tutto sommato possono contribuire a migliorare la complianza del paziente al trattamento dell'ipertensione arteriosa perché il paziente si sa misurare certamente dobbiamo fare prima un'educazione a come si misura la pressione arteriosa se noi non passiamo certo dobbiamo fare prima un training da punto di vista di dire come la misure la pressione arteriosa noi lo facciamo questo lo facciamo in tutti i nostri pazienti perché sponsorizziamo l'automisurazione la pressione arteriosa deve essere misurata la mattina prima di fare colazione ci si mette seduti su una sedia comoda con le spalle attaccate allo schienale sul tavolo il braccio deve stare all'altezza del cuore dobbiamo avere sgombro il braccio non ci deve essere maglia non ci deve essere niente di niente si mette il bracciale intorno al braccio due dita al di sopra del gomito il bracciale non deve essere aderente e nel largo deve essere come dico io sempre come le calze delle donne cioè non deve essere né tanto stretto né tanto largo i tubicini devono stare lungo l'arteria brachiale dopo di che poi si fanno deve essere un luogo dove non ci siano le finestre aperte che non siano troppo caldo né troppo freddo televisore accesi no radio no persone che parlano no prima di misurare la pressione arteriosa dobbiamo aspettare quei due o tre minuti dopo di che poi pigiamo e fa tutto l'apparecchio cioè per cui possiamo registrare benissimo non vanno mai accavallate le gambe una sopra l'altro se noi teniamo bene a mente queste poche istruzioni noi abbiamo un buon misura da parte del soggetto quella che noi chiamiamo l'autodeterminazione della pressione del domicilio stava dicendo televisione no radio no mi viene in mente una notizia un po' curiosa che ho letto l'inquinamento acustico in qualche modo aumenta la pressione le persone che vivono in ambienti rumorosi penso anche grandi città sicuramente le faccio un esempio se io sto a guardarmi la televisione mi aumenta di 10 mm di mercurio la pressione arteriosa se io sento una notizia brutta se io sento una notizia brutta a telegiornale arriviamo anche a 15 mm di mercurio per cui deve essere un ambiente completamente certo e questo però anche nella vita in generale nel senso che chi vive in ambienti particolarmente rumorosi questi se ne stanno occupando questi se ne stanno occupando quelli della medicina del lavoro e ci sono già dei lavori scientifici che hanno documentato come l'inquinamento atmosferico e non solamente ma anche acustico può modificare i valori della pressione arteriosa Conclusione professore un dato che sicuramente non è un vero un falso non è una leggenda metropolitana l'ipertensione lo definiva anche prima lei è un killer silenzioso nel senso che spesso è asintomatica non dà segnali se non quando i danni sono già avvenuti quindi per il rischio cardiovascolare vediamo una prevenzione corretta ogni quanto bisognerebbe fare una misurazione di pressione a che età forse un primo controllo per avere un primo step di controllo e come monitorarsi nel tempo Oggigiorno grazie a Dio la pressione arteriosa viene misurata abbastanza in tempi precoci perché basta pensare di tutti i ragazzi che fanno l'attività motoria che fanno l'attività sportiva eccetera per cui con le relazioni del medico sportivo già questi valori vengono già presentati eccetera noi diciamo questa cosa qui che dopo i 20 anni una misura alla pressione l'anno deve essere fatta dopo i 30 anni anche due volte l'anno poi se uno ha la familiarità per l'ipertensione arteriosa conviene che si misura la pressione arteriosa se noi abbiamo qualche sintomo che alcune volte possono essere sottovalutati tipo ronzio alle orecchie cefaleo retronuncale disturbi un po' del visus tipo per esempio vedere scintillita in ansia agli occhi che noi chiamiamo fosfeni possono essere questi dei campanellini d'allarme che sta aumentando la pressione arteriosa per cui a quel punto il paziente oltre che misurarsi la pressione arteriosa a domicilio deve andare dal medico in modo tale che poi si riesca a sviluppare tutto un iter diagnostico per dire è iperteso e che tipo di ipertensione ne sono affetto professore ringraziamo moltissimo per averci chiarito tutto quello che a volte in maniera erronea viene detto sull'ipertensione perché credo che sia una di quelle patologie in cui sapendo avendo dei punti fermi si può comunque avere un buon controllo quindi è importante conoscerla e sapere come è cosa procede grazie a voi per avermi dato questa opportunità in modo tale di fare una buona informazione buon lavoro grazie grazie a voi